Buona giornata a tutti, ci tengo a farvi sapere che il mio morale è buono, sono tranquillo, nonostante per ora la febbre non abbia intenzione di mollare. Sono felice che tutti i miei colleghi di giunta sono risultati negativi, un pensiero alla sanità lombarda non ce n'era bisogno, ma ho avuto la riconferma che siamo un'eccellenza a livello europeo. Ho ricevuto le prime cure nel presidio di Desenzano e adesso sono qua al civile a Brescia e noi contagiati posso dire che siamo veramente in ottime mani e che guariremo sicuramente tutti. Un saluto, ne approfitto alla mia famiglia, un saluto a tutti i lavoratori e collaboratori di Regione Lombardia a partire dal mio staff, dalla mia direzione e un pensiero va agli imprenditori perché anche loro non contagiati stanno vivendo un momento difficile, servono sicuramente dei provvedimenti straordinari perché il nostro Lombardia e il nostro paese possono ripartire. Forse questa è l'occasione buona per sbloccare burocrazia, per sbloccare infrastrutture. Ciao a tutti!